Matteo capitolo 3 In quei giorni Giovanni Battista venne a predicare nel deserto della Giudea dicendo Pentitevi perché il regno dei cieli si è avvicinato E' di lui infatti che parlava il profeta Isaia quando disse Voce di uno che grida nel deserto Preparate la via di Geova, rendete diritte le sue strade Giovanni indossava un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno alla vita Mangiava locuste e miele selvatico Gli abitanti di Gerusalemme, di tutta la Giudea e di tutta la regione intorno al fiume Giordano Andavano quindi da Giovanni ed erano da lui battezzati nel Giordano Confessando apertamente i loro peccati Avendo visto molti farisei e sadducei venire al luogo del battesimo Disse loro Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira futura? Producete quindi frutti che dimostrino pentimento Non pensate di dire a voi stessi Per padre abbiamo Abramo Perché vi dico che Dio può suscitare figli ad Abramo da queste pietre? La scure è già posta alla radice degli alberi Ogni albero che non dà buoni frutti sarà dunque tagliato e gettato nel fuoco Io da parte mia vi battezzo con acqua a motivo del vostro pentimento Ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di levar gli sandali Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco Hai in mano la pala per ventilare e pulirà completamente la sua aia Raccoglierà il suo grano nel granaio Ma brucerà la pula col fuoco inestinguibile Allora Gesù arrivò dalla Galilea al Giordano per essere battezzato da Giovanni Ma questi cercava di impedirglielo dicendo Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te E tu vieni da me? Gesù gli rispose Lascia fare per questa volta Perché è bene che facciamo in questo modo per compiere tutto ciò che è giusto Allora Giovanni non cercò più di impedirglielo Dopo essere stato battezzato Gesù uscì immediatamente dall'acqua Ed ecco I cieli si aprirono E vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui Ed ecco una voce dai cieli disse Questo è mio figlio Il mio amato figlio Che io ho approvato